ok dovrebbero già esserci un paio di ceste dentro qua vediamo se siamo stati gli unici a decidere per una discesa in questo punto vediamo un pochettino se siamo fortunati se troviamo qualche ceste qua già vedo qualcosa ragazzi di brillante di solito i cest sono dentro le cripte ne vedo uno ne vedo uno molto bene molto bene ci prendiamo subito fucile d'assalto con munizioni perfetto perfetto e subito il primo cesto ragazzi bene così il primo cesto altro fucile d'assalto ci prendiamo tutto andiamo a farmarci le risorse che ci servono così da chiudere la missione da passare anche il livello ragazzi perché ogni livello che passiamo con l'account che ha il pass battaglia ci dà delle cose degli degli oggetti extra nuovi avanti ancora avanti ancora già dentro in 77 ragazzi già dentro in 77 farmiamo le risorse farmiamo le risorse bene così bene così e siamo anche messi benissimo ragazzi per quanto riguarda il per quanto riguarda la safe siamo nell'angolo e abbiamo sicuramente il le spalle coperte bene così vai vai distruggi tutto distruggi tutto tutto devi distruggere bene così bene così le grandi distruzioni forza 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 tutto 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 tiro giù il fucile a pompa il fucile a pompa lo prendiamo perfetto così perfetto così avanti 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 tutto 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 giù tutto giù dai 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 veloce così veloce così veloce così a prendere le risorse veloce così a prendere le risorse tutto voglio tutto voglio porca miseria niente non lascio niente non lascio niente ragazzi distruggo tutto distruggo tutto di prepotenza, vai, 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 rimaniamo dentro in 60, rimaniamo dentro in 60 ragazzi, mi chiamavano Xyuder il distruttore, mi chiamavano Xyuder il devastatore, avanti ancora, avanti ancora, bene così, bene così cripta completamente distrutta stiamo prendendo tutto, tutto stiamo prendendo, vai così, vai così ok, ok, via, 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 via non c'è più nulla, non c'è più nulla, avanti così avanti così, a prenderci anche dagli alberi nulla, non lascio proprio niente a nessuno tutto per me, tutto per me, siamo quasi per raggiungere i 400, intanto c'è un altro chest mega interessante con una pistola leggendaria e un kit medico, innanzitutto riprendi subito il mitra riprendi subito il mitra, togli la bomba, prendi il medikit, sistemati il medikit qua in fondo, direi che va bene così, direi che va bene così avanti ancora, avanti ancora ragazzi, avanti ancora così, dovrebbe esserci un'altra cripta che ho proprio ignorato, che è quella lì, davanti, avanti ancora, avanti così 50 persone rimaste, perfetto perfetto, perfetto, in tutto questo ce la giochiamo sempre in modalità molto stilta ragazzi, ieri facendo così e anche l'altro giorno siamo arrivati secondi in entrambi i casi ragazzi, poi si sente purtroppo la lacuna nel costruire, quindi mi killano perché loro hanno i mega fortini con tanto di RPG e quindi giustamente gli ci vuole ben poco per killarmi entriamo di qua ragazzi, vediamo se nella cripta c'è qualcosa di interessante vediamo di arrivarci con un pochettino di picconate, forza forza, che fatica, che fatica ciao puzzetta, ciao puzzetta vai tranquillo, vai tranquillo, ciao momenti epici ciao, come va ragazzi, come state come state, bella lì, un altro cesto, un altro cesto, bene così e il fucile d'assalto con mirino, perfetto, wow giù il fucile a pompa, ci vediamo il fucile posante, tattico ragazzi lo mettiamo qua in apertura, poi facciamo così, facciamo così, c'è un altro cesto, c'è un altro cesto su di sopra ragazzi, molto bene, molto bene, è stata veramente azzeccata, l'atterraggio è stato veramente azzeccato ragazzi, abbiamo un bel fucilozzo epico, andiamoci su così andiamoci su così, ok, perfetto perfetto, e andiamo anche a spicconare giù di così ragazzi, andiamo così a picconare anche di qua, vediamo dov'è il chest è ancora più su, è ancora più su allora, costruisci la base costruisci questo perfetto, costruisci questo costruiscine uno qua perfetto, e uno qua ok, volevo costruire una base anche di qua, perfetto, perfetto, perfetto allora, via così no, togli quello, togli quello, perfetto dovrebbe essere dentro qua ragazzi vediamo se ci ho azzeccato non è dentro qua dove cacchio è? lo sento ma non lo vedo ce n'è un altro qua allora ah, ma va, era qua, era qua bene così, wow il gatling il gatling non è male però non mi piace tanto non sono molto bravo ad usare il gatling via così, via così ragazzi via così ragazzi, bene così allora, vediamo se riusciamo vediamo se riusciamo, potremmo lasciare giù il fucile beh, questo c'è un 4 perno ma lasciamo giù allora, il medikit lo prendiamo sicuramente giù la pistola leggendaria no, la pistola leggendaria mi serve per fare la missione niente, lasciamo giù il gatling lasciamo giù il gatling come non detto avanti ancora, avanti ancora ragazzi e possiamo cominciare a cercare di capire un pochettino la situazione via così questo via questo via questo perfetto tutto, tutto dovrei avere raggiunto sì, tranquillamente le 400 risorse quindi direi che la missione è bella che fate ragazzi avanti così avanti ancora avanti ancora siamo rimasti in 33 siamo rimasti in 33 un po' di munizioni non ci fanno male qua vale la pena davvero ma neanche muoversi troppo da qua in realtà ragazzi voglio vedere quando si stringe la safe se dobbiamo muoverci o se per caso si stringe a nostro favore alla peggio costruiamo un mega fortino chi se ne frega chi se ne frega di mattoni lo costruiamo se prendo un sacco di mattoni ragazzi costruiamo il mega fortino di mattoni che è molto più difficile da tirare giù non è come quello di metallo però diciamo che piuttosto che niente l'emel piuttosto intanto ci prendiamo anche un po' di metallo che non fa mai male bene così bene così un minuto e 32 al restringimento della safe ragazzi bene così bene così bene così tutto spacco tutto tutto dai 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 non c'è nessuno non c'è nessuno ragazzi non c'è nessuno perfetto 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 avanti ancora avanti ancora facciamo delle tecniche di costruzione vediamo mettiamo che dovessimo costruire velocemente ragazzi un fortino veloce in tutto va posizionato su questo e poi fai così troppo grande troppo grande devo stare molto più in basso devo stare molto vedi costruisco così costruisco così e poi questo e poi questo vedi così è un fortino già abbastanza interessante già così non è male ciao Totopep ciao Totopep ci hai beccato mentre stiamo facendo delle tecniche di costruzione prendiamoci ancora un po' di roba prendiamoci ancora un po' di roba 43 secondi alla chiusura devo stringere la chiusura la costruzione del fortino devo stringerle di più devo stringere ragazzi perché era troppo largo era troppo largo devo essere molto più veloce a costruire il fortino vediamo di prendere un po' di legna per tentare un altro fortino di costruzione in modo che facciamo un po' di tecniche come vi stavo scrivendo avanti così ancora la legna ancora la legna mi serve 661 unità di mattoni ragazzi interessanti peggio dei carpentieri bergamaschi avanti così avanti così 250 200 150 ok via via ancora legna ancora legna 78 di legna ciao frenzy97 ciao benvenuto benvenuti a tutti ragazzi wow siamo messi bene credo vediamo dove si stringe no siamo fuori siamo fuori siamo molto fuori benissimo benissimo questo vuol dire che sappiamo quasi di per certo che non c'è nessuno possiamo ancora oh c'è un altro chest guarda qua guarda qua questo chest un'altra pozione scudo ragazzi un'altra pozione scudo andiamo subito andiamo subito a verci la pozione scudo andiamo subito a prendercela e andiamo a 100 di scudo ragazzi adesso facciamo un'altra costruzione la proviamo ci riprendiamo la pistola ovviamente perfetto ok il nostro piccone giù ancora un po' di alberi giù ancora un po' di alberi bene così ok vediamo di fare un'altra prova di costruzione ragazzi vediamo di fare così è no no vedi vedi già sto sbagliando devo averlo sempre su F1 e devo fare pom pom vedi vedi pom perché sono così larghe perché sono così larghe e poi così e vedi ho costruito il cunetto costruito il cunetto perché costruisco così largo porca miseria non capisco non capisco avanti ancora avanti ancora ragazzi ciao Alfri Gamer ciao benvenuto anche a te benvenuto anche a te andiamo avanti ragazzi 1 minuto e 28 cerchiamo di guadagnare la safe in modo da avere poi tutto per noi la visuale sappiamo quasi di per certo che non c'è nessuno davanti a noi anche perché non vedo delle costruzioni non ho sentito nessuno siamo rimasti tra l'altro in 15 ci prendiamo un po' di unità di legname 3 unità così non abbiamo molto legname ragazzi non abbiamo molto legname abbiamo solo un minuto per prenderlo avanti ancora avanti ancora dai 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 giù l'albero 61 unità di legname per questo albero molto bene ciao Giovanni la terza ciao benvenuto anche a te benvenuto avanti ancora dai dai bene così veloce veloce più altre 14 unità direi di la pietra di lasciarla tranquillamente stare 14 giocatori rimasti ragazzi 48 secondi alla restringimento ci dobbiamo sbrigare non posso prendermela così con comodo devo muovermi devo muovermi almeno fino a che non sarò arrivato più vicino tagliamo il parco per intero qua invece qualcuno c'è stato ragazzi perché vedo qualcosa di blu là in alto ma non mi interessa era una bomba una bomba che non ci interessa assolutamente proseguiamo proseguiamo senza fare bordello 25 secondi 13 giocatori e va bene così e va bene così vai avanti 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 non c'è nessuno non c'è nessuno mi metto un pochettino più nell'erba ragazzi così sono meno visibile meno nell'occhio ok abbiamo raggiunto praticamente il bordo che ci interessava direi di prendercela ciao red ciao red ciao 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 anche a te come stai come va prendiamo ragazzi questo passo che ci guadagna ci fa guadagnare la parte alta della mappa 1 minuto 27 13 giocatori rimasti benissimo 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 proseguiamo ancora stando molto larghi e stando anche molto esterni direi che è la situazione la soluzione migliore ho sentito degli spari non penso fossero per me non sto vedendo ancora nessuno benissimo ok ok qua invece ci mettiamo molto tranquilli di qua molto tranquilli di qua coperti ragazzi e col fucile da cecchino guardiamo un po' com'è la situazione qua sembra tutto pulito vedi dovrei costruire diciamo che devo costruire sono troppo lento sono troppo lento ok poi tac tac e costruisci qua ma sei deficiente sei come come cacchio fai a costruirti sopra la testa la la cosa stupido vediamo se riusciamo a togliere questo ok vediamo di ricostruirla ok perfetto ci siamo sopra ci siamo sopra bene così bene così stiamo provando stiamo provando quando fai un fortino fallo piccolo se no è difficile e non farlo molto alto ok grazie per i vostri consigli grazie per i vostri consigli sono molto preziosi per uno come me che sta imparando oh non sparare non sparare sta imparando come farsi sgamare facili siamo in 10 ragazzi siamo in 10 il fortino è interessante mi aprirei un barco di qua invece mi aprirei un passaggio in modo da eventualmente scappare tanto la porta è chiusa ragazzi quindi bene così controlliamo ancora se c'è qualcuno in giro controlliamo ancora non vedo niente di qua ci sono i silos ok ok 10 secondi di nuovo al restringimento della ossa il piano no quanto mi sono fatto male qua ce l'ha uno ce l'ha uno là avanti ragazzi ce l'ha uno ma aspetto a sparargli aspetto a sparargli dai come fai a fare così ma sei un deficiente quando costruisci male modifica e lo so che si può anche modificare devo capire come fare ragazzi ancora non ho bene in mente la tecnica della modifica guarda come andare a perdere facile guarda come farsi malissimo ma te sei veramente un idiota avevo perso 85 con quella discesa ragazzi giocatori rimasti 8 attenzione attenzione cioè vediamo un attimo come si fa a modificare diciamo che costruisco questo con G si modifica con F modifica e se io modifico cos'è che dovrei fare com'è che si modifica non capisco cosa vuol dire questa modifica ripristina conferma non capisco poi andrò a vederlo poi andrò a vedere ragazzi poi andrò a vedere anche la modifica intanto rimettiamoci sempre su questo perfetto 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 molto easy molto easy siamo ultra protetti siamo ultra protetti dalle costruzioni che c'erano di già ragazzi benissimo non spaccherei nulla non spaccherei nulla ma mi limiterei ragazzi a controllare un pochettino come sono i movimenti intorno bene così perché devo uscire che mi sgamano no 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 torna dietro piuttosto è fatti una rampa per salire e vedere meglio com'è la storia ok bene così la rampa rimettiamolo su qua e diamo un'occhiata se c'è gente diamo un'occhiata se c'è qualcuno di qua sembra di no di qua sembra di no ragazzi vediamo di qua anche qua sembra tutto pulito 12 secondi di nuovo a restringersi della safe tanto una cassa di munizioni già luttata già luttata torniamo qua torniamo qua e rimaniamo con la mira in modo da guardare mi sembrava un movimento no non c'è nessuno sei giocatori dentro ragazzi sei giocatori dentro si stringe ma si stringe a nostro favore no si sta riducendo adesso non si sta stringendo andiamo avanti di qua andiamo avanti di qua diamo una picconata giusto easy giusto easy per aprirci un varco non c'era ovviamente nulla ma ce lo prendiamo tanto avevamo uno slot libero la munizione la pistola non mi interessa avanti ancora avanti ancora qua addirittura io chiuderei la porta per avere la certezza che non ci sia nessuno vediamo 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 di capire un pochettino dove sono tutti qua c'è anche una trappola la prendo perché no perché no avanti ancora e torniamo su di qua torniamo su di qua continuiamo a mirare per vedere un po' se scende gente dalle colline no no siamo sono quasi quasi sicuro al 100% che non ci sia nessuno potrei anche tentare di proseguire ma potrei anche rimanere fermo sono delle frecce se le sposti verso sinistra con il controller o la tastiera ruotando le frecce si taglia la costruzione ah grazie Giovanni grazie 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 per questa delucidazione vedrò di capirci bene quando sarà il momento di fare delle prove va bene molto tranquilli ragazzi molto molto easy non c'è nessuna fretta non c'è nessuna fretta cerchiamo di siamo rimasti in 4 siamo rimasti in 4 e tra l'altro si dovrebbe svolgere tutto là davanti ragazzi se per caso io rimanessi qua vediamo 8 secondi a restringersi della safe vediamo un pochettino vediamo un pochettino intanto rimuoviamo il marker non ci interessa più e la safe si stringe siamo fuori ragazzi siamo fuori dalla safe che si va a restringere quindi ci possiamo comunque tranquillamente avvicinare avevamo già visto che non c'era nessuno da queste parti con molta calma con molta calma riguardiamoci le spalle un'ultima volta no è davvero tutto pulito è davvero tutto pulito ma ci saranno sicuramente i cecchini da qualche parte quindi stiamo attenti vediamo di qua non c'è nessuno la potrebbe esserci qualcuno la potrebbe esserci c'è un fortino costruito c'è un fortino costruito facciamo un giro facciamo il giro da qua ragazzi facciamo il giro da qua sento gli spari sento gli spari io credo che oltre a costruire i fortini loro potrebbero tranquillamente avere anche dei lanciagranate però però guardate che storia guardate che storia siamo mega protetti di qua il muro devi farlo più vicino devi farlo muro muro dove cacchio sto costruendo no qua c'è il furgone ma no lì qua devi costruire muro muro perfetto qua facciamo due tacchette in modo che mi va a costruire le scale cosa che non sta facendo puoi costruirmi delle scale grazie ok ok ha costruito anche le scale siamo un po' lenti nella costruzione ma siamo dentro ragazzi siamo nella safe nella parte secondo me più buona perché su qua non abbiamo nessuno e quindi ci può stare rimanere fermi peccato che non abbiamo le bende peccato che non abbiamo le bende siamo anche abbastanza protetti potremmo riuscire a fare qualcosa di interessante rimaniamo in tre ragazzi attenzione siamo in tre siamo in tre e di qua possiamo guardare ancora meglio ci sono delle costruzioni là davanti vediamo se per caso qualcosa per noi attenzione ragazzi siamo in tre ciao Raptor ciao come va come va partita molto interessante ragazzi partita molto molto interessante si sta per restringere di nuovo la safe chissà dove sono chissà dove sono diciamo che sono stati adesso appena esposti alla tempesta guardalo di là uno è là in fondo uno è là in fondo ragazzi ok uno sappiamo che è là uno sappiamo che è là l'altro guardalo là guardalo guardalo non gli sparo neanche c'ha lancia missili c'ha lancia missili non mi piace questa cosa non mi piace proprio tolgo qua ragazzi tolgo qua perché voglio avere l'accesso oh molto interessante molto interessante ce n'è uno là in fondo ragazzi vediamo un po' dove si va oh che airdrop interessante l'avrà visto anche lui certamente l'avrà visto certamente anche lui attenzione 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 c'è un airdrop proprio qua vicino c'è un airdrop proprio qua vicino eh sì sto giocando da poco Tommaso è vero grazie 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 si stringe l'occhio della tempesta e noi siamo ancora messi bene lui potrebbe tranquillamente essere là non si avvicina a nessuno però ragazzi non si avvicina a nessuno lui è sicuramente in quella casa degli spari tra di loro tra di loro sento gli spari ma non vedo nessuno sento ma non vedo e qua dobbiamo stare ancora davvero attentissimi abbiamo ben due mongolfiere ragazzi ben due mongolfiere vicino secondo me siamo troppo esposti siamo troppo esposti è molto golosa quella mongolfiera siamo in due siamo in due ragazzi siamo in due attenzione e qua è interessante e qua è interessante costruisci intorno ciao Davide sono troppo sgamabile non rego non rego ancora agli scontri agli scontri a fuoco non rego ancora agli scontri a fuoco però ragazzi siamo ancora secondi siamo ancora secondi vediamo vediamo cosa ha intenzione di fare lui non può non può immaginare dove sono anche perché credo che sia veramente là nella casa non posso neanche uscire perché è troppo sgamo devo limitarmi ad aspettare di nuovo restringersi della safe e comunque cercare di dare uno ha distrutto l'albero ha distrutto l'albero attenzione 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 può poteva immaginare che ero qua non ci credo dov'è ma dov'è dov'è ragazzi dov'è dov'è non capisco se sta sparando a caso o se sa dove sono non lo capisco proprio ragazzi non credo che sia un pro a giocare non credo ma non riesco veramente a capire da dove stesse sparando si stringe ancora si stringe ancora ragazzi si stringe ancora non si prova a fare una cosa dove sta costruendo ha costruito la per terra figlio figlio di puttana oh mio dio 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 Grazie a tutti.